Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! E ok sono uguale a prima che 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 merda oh mio dio il tipo drago non ci voglio credere miracolo miracolo dopo aver fatto gudra forse hanno capito che serviva anche a me non ci credo Gesù esiste. Mi hanno aggiunto un altro cannone e continuo a sparare l'acqua dalla bocca. Mmm nintendo la droga. Dai generazioni ci ho messo per diventare utile. Ai miei tempi giovani tenevano i cucchiai in mano adesso con queste tecnologie si possono far volare ai miei tempi. Ok qui la situazione è sfuggita di mano e c'è in 12. Ok praticamente mi state dicendo che ho perso la mia abilità a evitazione quindi mi state dicendo che sono inutile e benissimo grazie. Io aspetto il tipo drago aspetta con calma la decima generazione forse ce la facciamo tranquilli. Vai figlio vai a socializzare con gli altri bambini sì grazie Gesù Cristo. No seriamente raga nel marsupio pesava cioè non ce la faccio. Ok ok ok. Ehm per perché c'ho una fottuta faccia sul ventre cioè spiegami sta cosa ti prego. Ehm Deliberto stammi lontano dalla coda va bene che sei un alberdi natale però adesso mi sa perché stiamo un po' esagerando eh. Eh sì raga ho fatto palestra e non quella dei pokemon quella di aria. Bene la prova costume di quest'anno ha fatto cagare. E questo coso da dove è venuto fuori? Ok c'ho dei tovaglioli che mi fluttuano attorno al corpo questo è un problema. Ma diciamo abbiamo lo stesso problema io e tal. Ehm sì forse esagerato un pochino con la lacca ma proprio un pochino eh. Vabbè mi sembra giusto uno si sveglia e si ritrova delle ali no ma è chiaro. Posso posso muovere la bocca? Davvero? Oddio sto parlando? Oddio? Ehm perché le mie braccia e le mie gambe sono diventate degli insaccati? Cioè io volevo volare da piccolo però non riesco più a camminare aiuto. Eh ma basta adesso ma quante me ne volete aggiungere di braccia barra gambe? 300.000 cosa devo diventare io? Ah sono utilissimo. 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 Grazie.